In diretta qui dal Blitz, ci guardiamo il Calabria, abbiamo Francky e la signora Francky. Come ci si sente a sentirsi sotto a sé? È una cosa terribile, buonasera a tutti. Ragazzi mi raccomando, cercate di stare sempre all'erta per gli fissi sul computer, ammazzatevi, fatevi gli occhi neri. Però non diamo soddisfazione agli avversari, forse la nostra alleanza deve vincere quest'anno. Allora la selezione è stata durissima oggi e dopo l'ultimo saccheggio sono rimaste molto meno donne popolari. Cosa pensa di fare per ripondolare il suo villaggio? Beh io ho intenzione di prendere un 10 scavato di piazza e cercare di... Quindi lei è uno che sbaula? Sbaula moltissimo. Eh 99! Io conosco qualcuno che sta riprendendo queste cose che sbaula più di me. Eh sì sì, lo sappiamo infatti. Parla di me. Infatti questo Reame Albania ha una popolazione incredibile. Il nostro Albania Master, il nostro Granada, il nostro Bernetti. Il leader. Il leader. Il che è stata accettata da aiutare il tuo grupo. E ci hanno detto che lei è uno che gioca molto di rientro e di rientro. E di rientro. Di rientro, di rientro, di rientro, di rientro e di rientro. Cosa ne pensi? Rientra o esce? E' arrivata la pasta e io penso che è niente, praticamente a me piace attaccare moltissimo, saccheggiare, perché c'è sempre, mi faccio ditele molto l'anno. Sopra 18 anni. So che lei ha posto una fed con l'Albania. Sì, ci manegano proprio. Dopo l'ultima notte di cuoco, insomma, lei ha preso un po' di batosta e allora ha precedito la fed. Sì, sì, ha precedito la fed. C'è la pasta, l'hai segnato? No, veramente è il contrario. Quindi, giustamente il cameraman, vediamo che ha problemi nella camminata, con le ultime foto del cannone. E appunto, visto come si è segnato bene lì? Senta, questa promessa di spadaccini pesanti, che poi in realtà si sono dimostrati spadaccini molto leggeri. Cosa pensa di fare? Viagra anche a lui. Ma sì, così diventa blu, come il viagra. E poi sarà un grande gusto. Per non perdere i culi, so che lei ha aumentato, diciamo, l'addestramento militare, per tirare un po' su un orario. Sì, sì. Siamo arrivati almeno a tre centimetri di addestramento militare. Sì, anche quattro. Cerchiamo di dare il suo che possibile. Tiriamo su a 14. Un saluto dal Reame Blitz 53 Calabria. Upa alla Marocca.